Un matrimonio complicato e la traduzione di Numadramonio Andrevaghiate, la commedia in due atti di Tonio Delcore, liberamente ispirata ai promessi sposi di Alessandro Manzoni, in scena oggi alle 20 e domani alle 18 a Bari, nel teatro di Cagno a Brescia. La commedia è messa in scena dal gruppo teatrale Alter Teatro, autogestione nella libera e terzettà del teatro dell'Università Popolare Pugliese. Media partner dell'evento Antenna Sud, fin dalla prima lettura, reminiscenza scolastica dei promessi sposi, racconta del core, ho avuto simpatia per i bravi relegati a personaggi di secondo piano. Questa mia parodia vuole segnare la loro rivincita, infatti è il loro ruolo principale. I nomi dei personaggi sono stati cambiati e adeguati alla realtà del luogo e quindi ci saranno Faiele, il bravo Malavitoso, Don Salvatore il parroco, Don Pasquale l'innominabile, la monaca di Ponza, Lenuccia la perpetua, Nicola Bravaglino Uzzite e Marietta Mantella Lazzite.